No, basta, non la porto solo. Schiacciate. E sta registrando? Sì. Sera? Questo è l'ultimo giorno che sto qui. Dalle 16, intervento del 16 di novembre. Oggi sono? Oggi, primo dicembre. Primo dicembre. Domani a casa. E aspetti positivi di questa esperienza? Sì, positivi tutti. Tutti, perché trovate persone eccezionali. Ue ue, ue ue. Daniele? Da stavo con te che aveva Paolo. Questa è un nome che aveva Paolo. Ue ue. Daniele che è il padrone qui dell'ospedale. C'è sette mesi che è qui. Speriamo che sta bene. Questa è il tuo acido, perfetto compagno di stanza. Si lamenta un po' troppo. Un po' lamentoso. No, un pochino, vai non male. Poi c'è l'incioppo. Io sono arrivato molto tardi. Io sono arrivato molto tardi. Tutto sommato, aspetti negativi? Aspetti negativi i primi due giorni che sono stati. Ma io non so se... Non si sapeva se andare da un delazzo muto. Il dito va bene, niente di niente. Che è successo al dito? Mi sono togliato. Un buggetto. Volevo... Volevo fare la stampella. Volevo fare la stampella. Vediamo come viaggio. Con una sola. Ah, lo trovo bene. Ok. Perfetto. Aspetta, aspetta. Poi c'è stato il divertimento. C'è tutta la consola. Tutto quello che mi necessitava per fare il mio lavoro. E' il mio obbligo. E' il ricottero? Poi c'è l'amico Sandro che mi ha giocato di... E' il ricottero. Poi ci sono divertiti. Ci sono divertiti. Ma è un po'. Grazie. Non so se lo vado, ma che è benvenuto domani. Non so se lo vado. 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 Sottili, allora non so se lo vado. Come era uno? Tutto ok. va bene ciao panoramica l'ho perso e questo è quanto bene buona uscita allora grazie grazie